La mia vita è la mia vita 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 Tutto il sapore c'è l'anima del pane E nel nuovo pacco corazzato ce ne sono tantissimi Più di 60 Li trovate avvolti in pacchetti sigillati Per mantenerli fragranti come appena usciti dal forno Crackers Premium Dalla Saiva Il vostro grande fornaio Quanto è bella lei Quanto è la mia vita è la mia vita Quanto è la mia vita è la mia vita